Daily vlog numero 100 Ma di cosa stiamo parlando? Ho ripreso 100 giorni della mia vita Fantastico E questo daily vlog numero 100 non poteva noi iniziare se non con un porridge freddo Non esiste il miglior modo per iniziare una giornata se non con un bel porridge proteico freddo E visto che negli ultimi daily vlog mi avete fatto notare che non ho mai detto buona appetuta a Titti Ve l'ho beccata stra arrogante nel daily vlog numero 100 Buona appetuta a Titti Ciao Iniziamo ufficialmente questa giornata a tre cifre Come il solito sacchettino di cibo E si va in torretta Perché c'è della carta igienica? Let's go Oggi domenica 22 agosto sarà l'ultima giornata speriamo nella quale ci sarà un mare di gente in spiaggia Ci vedo dopo Ciao Quindi quale miglior modo per festeggiare questo centesimo daily vlog se non con una bella giornatina in torretta E per quei nuovi 12.000 iscritti che sono arrivati adesso sul canale Si oltre a mangiare faccio il bagnino Cosa fa Francesco Zini quando non mangia? Fa il bagnino Grande Comunque oggi il mare è calma piatta Quindi non dovrebbe regalarci forti emozioni Il Uigone è la nostra baracchetta Lo conoscete il volo delle ciabatte? Volate Cibo Zainella E il bagnino E con il mitico fischietto Fox 40 Dichiaro ufficialmente iniziato questo turno da bagnino Mi intrattengono un sacco i cani durante questi miei turni in torretta Fanno le cose buffe E' arrivato quel momento bello della giornata dove si esce col pattino a fare un giretto di perlustrazione Voglio tenere il telefono con i piedi Ma che ne sanno i tre piedi? Due piedi e via Quando ti dicono fai dei ripresi con i piedi Eccole le ho levati Questo via è come si gira sul pattino Ma dove l'ho ritrovato un altro vlogger bagnino Che tra l'altro i miei vlog da bagnino sono stati i primi video sul mio canale a riscuotere un notevole successo E la cosa divertente è che c'è stato un periodo della mia vita da youtuber Nella quale su Instagram mi contattavano solamente ragazzi che erano interessati al corso da bagnino E' stato bello essere il bagnino di Youtube Italia Torniamo a vogare Anche perché c'è la colazione che ci aspetta E benvenuti alla mia merenda in torretta Con un bel painozzo con dentro 100 grammi di albume Super proteico E il pane è tutto umidicio perché ci ho messo l'albume ancora caldo dentro Non so di niente Molto spesso mi chiedete ma come fai a mangiare così tanto e non ingrassare? L'albume d'uovo e la risposta Ma che bello è quando passa il coccaro e ti lascia una fettina di cocco Ma che cucciolo il cane che prende gli schizzi Anch'io voglio un cane trampolino Buono che è il mio qui per oggi Ho fatto Ciao ciao torretta Comunque la spiaggia me l'aspettavo molto più devastata di persone Sarà che l'estate sta avvolgendo al termine Guardate Quanto ne sono? Carina la Tesla Ma vogliamo mettere con il Fiat 500 di 25 anni fa con 50.000 km Tiè arte povera C'è pure Lara Scaglione che ci ha lasciato l'autografo Ciao Lara Tiè mi ci hanno disegnato anche un cazzetto A tela del popolo Ma adesso vamos a grosseto Ma che ne sanno gli youtuber di successo Tiè Senti che rombo I violini proprio I violini Un'orchestra Che bello C'è la fila fino a grosseto Ma che benessere Un'altra domanda che mi avete fatto veramente in tanti sotto nei commenti è Ma perché dici buon appetito a Titti? Che sarebbe praticamente il motto del mio canale da quando l'ho aperto Però mi sembra più che lecito raccontarvi la storia dietro questo motto in un video speciale come il centesimo daily vlog E a spiegarvelo non sarò io ma chi l'ha vissuto in prima persona Ma buonasera maggiorenne No dietro le piante Ci devi delle spiegazioni lo sai vero stasera È lui È lui l'artefice Del buon appetito a Titti Lo voglio sapere Hai anche una bottiglia d'acqua se ce l'hai? Cioè io perché sto pisciando dal cuore? Cioè non so com'è la cosa Che effetto fa? Allora scioniamo E si mangia per meno Eh per allietare i palazzi La prima volta che ho la coca a casa quindi sfrutta Ma ciao sciscio Quanto vuole cibo? Prima si mangia e poi si racconta tutto Comunque è il compleanno di Edo Fatevi gli auguri sotto nei commenti Auguri a Edo A Edo A Edo Ah porco schifo sobriaco Dammi questa donzellina Prosciuttello Belle sciosele di conchiglie Con cosa? La cacca rosa Si fa le cose seriamente Saregate le proteins Ti è guardate succose Però che belli i complanni Porca c'hai il grasso freso Schizzi il mondo Appare bene Quindi ragazzi con questa torta è un festeggiato del genere Può accompagnare solo Buon appetito a Titti Titti Un lupo Addio Grazie mia mamma Questo boccone di torta è per il centesimo daily vlog To lo sapevo Tanti auguri daily vlog È arrivato il momento che tutti voi stavate sicuramente aspettando Sedetevi ragazzi Ho una storia da raccontare Da dove nasce il buon appetito a Titti Vada Prego Non nasce da me E nemmeno da me E nemmeno da lui E nemmeno da me E nemmeno da lui Ma nasce da una cara amica di famiglia non italiana Una duchessa svizzera Una duchessa svizzera Molto amica della mia famiglia Che una volta ad una cena a casa mia Voleva fare il brindisi prima di mangiare Ovviamente non parlava l'italiano fluentemente come un italiano Perciò dopo aver fatto l'effettivo brindisi Ad una certa voleva augurare il buon appetito Il buon appetito a tutti Ma col bicchiere in mano Poi si bloccò E non finì mai la frase Buon appetito a tutti Riportai questa cosa ai boys Per rielaborarla E quindi abbiamo continuato il costrutto mentale Fino ad elaborare il buon appetito a Titti Frase che non è più saltata fuori Fino ai suoi video Era stata fatta e seppellita lì Ma nessuno l'aveva più sentita quella frase Patrimonio di YouTube Italia Di 15.000 persone E che presto arriverà il merch Annuncio così E dei prototipi di questo merch sono già stati fabbricati per il mio speciale 1000 iscritti E questo è un esempio Fai vedere la scritta Buona Ammirati È lei Le felpe perfette per il futuro È lei Spero che adesso siate soddisfatti Io spero che adesso sia dicembre perché sto esplodendo dal caldo Quindi questa è la storia dietro il buon appetito a Titti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti